Purtroppo è capitata una cosa che nessuno di noi si aspettava, in primis lui, e quindi voglio solamente che lui stia tranquillo e che comunque stia sereno nel suo dolore. Io sono qui oggi anche per dire questo, che vorrei che non si strumentalizzasse questa cosa nei confronti di Rolando. Il ragazzo di 18 anni deve stare tranquillo e deve provare a dimenticarsi in fretta di quello che è accaduto. Purtroppo non sarà facile per lui perché è normale, è un parente, è un fratello della mamma. Quindi se avete letto la carta stampata di oggi, da soli potete capire che parliamo di tutt'altro. Nel senso che lui era purtroppo un vigile urbano, quindi una persona che faceva capo alle forze dell'ordine. Quindi escluderei ogni tipo di cretinata, mi permetto di dirlo, che è uscita su alcuni siti, alcuni giornali. Parliamo di tutt'altro, purtroppo saranno poi l'inquirente a stabilire il perché e per come. Io non voglio fare quello, voglio solamente dire che sono vicino alla famiglia, perché in un momento del genere è l'unica cosa che mi viene da dire. Lei si è anche sentito con Marotta della Juventus? No, io ho sentito tutti della Juventus, a parte che sono stati vicino, perché penso che sia giusto così. E poi vogliono che il ragazzo stia tranquillo, nel senso che non sia strumentalizzato più che altro tutto questo. Perché penso che già sia abbastanza forte quello che è successo, non credo che vada anche strumentalizzato.